Ci troviamo oggi con Flaviano Renna, nuovo presidente della Prologo di Cervinara. Flaviano, prima domanda. Flaviano, sei soddisfatto? Sì, penso di sì. Dopo 15 anni di iscrizione alla Prologo, quando mi hanno chiesto della presidenza della Prologo, vedendo l'entusiasmo negli occhi dei ragazzi, non ho potuto fare a meno che insiedermi con la carica di presidente. Senti, Flaviano, il compito è difficile perché vieni dopo Alessandro Garofano che insieme a voi, perché pure tu facevi parte di quel direttivo, avete fatto grandi cose, quindi correre su quel binario è sempre più difficile. Sicuramente di sì, però non abbiamo paura, con l'entusiasmo che abbiamo riprenderemo la strada del presidente Garofano, quindi ci aspetteranno nuove battaglie, ma non abbiamo paura, quindi andremo sempre avanti con altre iniziative e vedremo. Comunque non ci faremo impressionare. Senti, Flaviano, i dipunti, i chiave del tuo programma futuro? Vabbè, comunque manteremo sempre le manifestazioni che facciamo da una vita, come c'è Vinarte, che abbiamo portato ad un grande livello. Ci sono tante poi manifestazioni, come manifestazioni religiose, che a breve, come il 6 gennaio, abbiamo il bacio del bambino, il fuoco di Sant'Antonio, collaboreremo anche per la realizzazione della Via Crucis, poi ci saranno sempre la giornata del bambino, poi anche la notte longa, tante varie iniziative, poi anche con la collaborazione con la Sagra della Castagna. E a breve, ora, faremo la prima edizione della Sagra del Tartufo, quindi saremo sempre impegnati, anche dando uno sguardo sempre al sociale, ci manteremo sempre, quindi, in attività. Bene, da quello chiudiamo con una domanda. Quello che si evince dalle tue parole, si riesce a capire che molta collaborazione la cercherete nelle altre associazioni di Cervinare, per lato del Massio, quindi per la Sagra della Castagna, ci sono tante altre associazioni, cercherete di collaborare per portare Cervinare sempre più su? Quella è la vera forza del nostro paese di Cervinare, la collaborazione tra le varie associazioni, le varie associazioni cattoliche, con il Comune, e quindi l'Unione fa la forza, praticamente.